Nei giorni scorsi il consigliere di opposizione di Agropoli, Mario Pesca, ha chiesto all'ente agropolese la possibilità di intitolare una strada, una piazza o un altro luogo pubblico della città di Agropoli all'avvocato Gianni Agnelli nel centenario della nascita. Agnelli, spiega, Pesca faceva spesso approdo con il suo yacht ad Agropoli. Oltre al consigliere Pesca anche Gisella Botticchio, consigliera della Lega, gli ha fatto eco e ha protocollato una richiesta all'ente agropolese. In tutta Italia hanno dedicato spazi pubblici ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore che dieci anni fa è stato ucciso a 20 chilometri da casa nostra, scrive la Botticchio. Angelo Vassallo era un esperto di ambiente e territorio, ha perso la vita per difendere la sua terra, merita di essere ricordato. Nomi di tutto rispetto che meritano i dovuti riconoscimenti. Nella città di Agropoli numerose sono le persone che si sono distinte per le azioni concrete che negli anni sono state fatte per il bene comune. Ricordiamo tra queste il compianto. Paolo Serra, già sindaco della città di Agropoli per ben due mandati. A lui, secondo il pensiero di tanti, andrebbe il riconoscimento di una intitolazione di piazza, strada o luogo pubblico che più lo possa rappresentare. A chiederlo a gran voce è un cittadino di Agropoli insieme a tanti altri. Chi più di Paolo Serra meriterebbe una piazza o una via intitolata? In questi giorni ho sentito nomi circolare a cui si vorrebbero intitolare piazze e vie, seppur autorevoli e meritevoli. Il nome del compianto sindaco Paolo Serra non è stato fatto. Io credo che prima bisogna pensare a chi ha dato tanto alla nostra cittadina di Agropoli, non solo per meriti politici, per come ha amministrato, ma anche per gli impegni profusi nel sociale, dove il caro e compianto Paolo Serra da sempre era impegnato. Ho conosciuto personalmente Paolo, una persona come poche, che ha dato l'anima e non solo per la nostra cittadina. Ha dato, dico solo, ha dato, fino alla fine e l'ha amata più di altri e su questo ne sono certo. Da qui la sollecitazione a chi di competenza, a dare merito e onore a chi ha tanto amato Agropoli, con una intitolazione di una piazza a suo nome. Io propongo Piazza Vittorio Veneto, la piazza che lui ha disegnato anni fa, sognandola come oggi è diventata. Piazza Paolo Serra, in memoria. Grazie ancora, signor Paolo Serra, per tutto ciò che hai fatto per noi. Paolo vive ancora nei nostri cuori.